Questa è Anna. Anna è sulla quarantina. Ha due figli fantastici, un marito amorevole ed un lavoro appagante. Tuttavia, Anna è di cattivo umore. Lotta contro la caduta dei capelli e questo mina la sua autostima. Anche il resto della famiglia risente del suo cattivo umore. Per questo Anna ha già provato di tutto. Dalle pillole agli integratori alimentari, passando per gli spray e le tinture. Ma invece della soluzione, è aumentata solo la frustrazione. Poi un'amica le ha presentato Marco. Marco è parrucchiere e conosce molto bene il problema di Anna, visto che molti dei suoi clienti sono nelle stesse condizioni. Proprio per questo problema, lui ha un'ottima soluzione. Hairdreams Top & Grow è nuovo e si basa sull'effetto degli ormoni vegetali, che possono far crescere non solo le piante, ma anche i capelli. Soprattutto se, come nel caso del principio attivo PHT, sono ottenuti da erbe alpine ed hanno un'aggiunta extra di taurina ad aumentarne ancora di più l'efficacia. Secondo uno studio Stop & Grow, il 96% dei clienti nota un cambiamento eccezionale ed un netto aumento della densità dei capelli. Anna è entusiasta e fissa subito un appuntamento da Marco. In primo luogo analizza il cuoio capelluto di Anna con una speciale microcamera, quindi esegue un trattamento specifico con un'applicazione del 3 in 1 Activator Cream, con estratti di melograno, eucalipto e tè verde. Questo deterge il cuoio capelluto, lo detossina e lo purifica in profondità. Così il cuoio capelluto di Anna può respirare liberamente e assorbire in modo ottimale il principio attivo PHT. Nelle settimane seguenti, Anna utilizza Hair Dreams Stop & Grow a casa, secondo le istruzioni di Marco, e si reca regolarmente nel suo salone per i trattamenti del cuoio capelluto. In breve tempo Anna può già vedere i primi progressi. I capelli che restano nella spazzola sono sempre di meno e sulla testa di Anna ritorna una densità sempre più visibile. La fiducia in se stessa di Anna aumenta ad ogni visita dal parrucchiere. Anche nella sua famiglia le cose vanno molto meglio. Solo il marito di Anna è sempre più invidioso perché i suoi capelli sono sempre meno. Per fortuna Hair Dreams Stop & Grow funziona anche per gli uomini. Allora, sei curioso? Prova Hair Dreams Stop & Grow in esclusiva presso il tuo parrucchiere. Trovi la lista dei saloni partner e maggiori informazioni su stopandgrow.com